ciao ciao da oslavia la vendemmia è finita da qualche giorno e l'autunno ormai è arrivato abbiamo avuto anche già la prima brinata qua in pianura ed è il momento ideale per iniziare a fare la concimazione autunnale tradizionalmente due sono i momenti migliori per andare a concimare la lavinia l'autunno appunto oppure la primavera e cambia un pochettino ecco il modo di concimare tra le due stagioni perché in autunno ad esempio utilizzando la sostanza organica ha molto più tempo per essere trasformata all'interno del terreno e così in primavera è già pronta per partire quest'anno ho pensato a tre tre modi diversi di concimare i miei vigneti in base a quello all'uva che voglio ottenere in base anche di dove ci troviamo la pianura per la pianura ho pensato a un concime la collina un altro concime e poi su un terzo vigneto di tre ettari proverò a fare una prova che mi interessa mi incuriosisce molto e vedrò l'effetto logicamente appena prossimo alla prossima vendemmia ecco diciamo così ho pensato anche a due modi diversi di distribuire tra la pianura e la collina il concime qua in pianura come puoi vedere qua dietro di me c'è il spandiconcime io vado a spargere a spaglio il concime e poi matias dietro passerà con un ripuntatore per ossigenare il più possibile il terreno lavorandolo ogni seconda fila in collina invece andremo direttamente con gli interatori con ripuntatori con gli interatori con due ancore non di più così andiamo a localizzare la concimazione e dare l'ossigeno in contemporanea e nel terzo vigneto dove andrò a fare la prova andrò con spandiconcime e in più poi andrà matias ad aprire col ripuntatore adesso tirerò giù il spandiconcime lo toccherò al trattore sento che matias sta arrivando ci troviamo in pianura qua in pianura andrò a dare un concime minerale un 12 12 17 e proprio perché devo ottenere una produzione un po più cospicua sto distribuendo il concime minerale qua in pianura e prima non ti ho accennato un po i dosaggi ecco e io cerco di apportare quel poco che è stato quel poco cerco di equilibrare la produzione cerco di avere un equilibrio vegetativo nella pianta di conseguenza in base ai quintali di uva raccolta su quello faccio un po il il dosaggio della concimazione qua in pianura sto andando a due quintali e mezzo di un 12 12 17 e questo significa che su un ettaro vado a distribuire 20 30 dai 30 unità di azoto più o meno queste mi servono quasi interamente vengono quasi mangiate dall'erba però andare in sovra dosaggio dosaggio più alto mi porterebbe ad avere dei gravi dei grandi problemi poi con con l'uva che soprattutto qua in pianura io la maggior parte varietà internazionali grappoli belli chiusi compatti una concimazione azotata troppo spinta non va non va troppo bene ecco in collina poi quando andremo su che parlerò dei dosaggi anche su e della mia prova sperimentale qua in collina invece lavoriamo il terreno in modo un po più meno invasivo perché essendo su terrazzamento che riesco dal filare così ti mostro dove dove ci troviamo se lo tutto terrazzato non abbiamo l'inter fila dove poter poi vedere come puoi abbiamo dove buttare i tralci quando facciamo lo stralcio nella potatura invernale perciò un rimedio in un certo senso che ci permette di arieggiare il terreno e di fare la concimazione allo stesso momento è quello di andare a interrare ad interrare il concime e così anche ossigeniamo un po il terreno non è non è proprio il massimo perché il concime viene concentrato in due fasce però bisogna trovare una soluzione ecco che accontenti tutti bisogna dare un colpo alla botta e un colpo al cerchio il concime che stiamo dando qua in in collina è un organo minerale a due quintali a ettaro questo vale per tutti i vigneti di collina tranne per la ribolla gialla destinata alla macerazione dove darò esclusivamente l'ammendante che mi ha avanzato dalla della mia prova cioè non è che mi ha avanzato ne ho acquistato di più anche per la vigna della ribolla macerata perché la lavoriamo in un modo un po un po diverso ecco e adesso sto sentendo che matias sta arrivando col trattore così ti vedo ti mostro come funziona anche l'interattore mi trovo adesso nella vigna dove provo a fare questa prova e in questo modo mi trovo adesso nella vigna dove provo a fare cosa consiste beh andrò a fare una concimazione su due turni adesso in autunno vado di un ammendante di uno stallatico a base di letame bovino ed equino mi sposto un po più sul sole eccoci e lo vado a sempre dare col spandi spandi concime dosaggio molto più elevato rispetto al concime minerale e all'organo minerale e infatti qua vado sui dieci quintali a ettaro la prova si svolge su un vigneto di tre etari e mezzo di conseguenza un bel pole di parafrasando potete un po di merda da distribuire e poi c'è matias che comunque lo va a interrare in quadro qua è già passato è già passato e ha già interrato e poi in primavera passerò con dei trattamenti di delle concimazioni ecco fogliari mi interessa molto vedere la reazione di questo vigneto ecco è un vigneto che l'abbiamo preso in affitto due anni fa è stato un po trascurato dai precedenti gestori però un gran bel pezzo c'è Pinot Grigio e Savignon in una posizione incantevole siamo proprio alle pendici del monte sabotino e voglio vedere ecco veramente come si comporterà questa concimazione questa concimazione in due in due parti se allora innanzitutto mi interessa sapere i tuoi come lavori tu con le concimazioni se preferisci fare tutto in un blocco in autunno in primavera o di mezza smezzarle oppure utilizzi esclusivamente con i cimi fogliari fammi un po sapere quello che quello che fai tu nei tuoi vigneti e se il video ti è piaciuto metti mi piace condividilo e mi raccomando iscriviti iscriviti al canale da Daoslavia è tutto ci vediamo la prossima la prossima volta ciao ciao